Voglio parlarvi del problema del single source broadcast su click tramite l'utilizzo del protocollo pool. Allora, che cos'è il problema del single source broadcast? In questo problema io ho una rete sottostante in cui ho una sorgente S che ha un'informazione. Il problema consiste nel progettare un modo, un protocollo, in modo tale che tutti i nodi della rete a un certo momento avranno ottenuto almeno una volta questa informazione. Cioè voglio che questa informazione si diffonda lungo tutto quanto la rete. In questo caso noi analizzeremo il caso particolare di una click, ovvero di un grafo completo con n nodi, tramite l'utilizzo del protocollo pool. Che cos'è il protocollo pool? Il protocollo pool è un protocollo di tipo gossip e funziona in questa maniera. Un nodo U, che ha un certo vicinato, sceglie uniformemente a caso un suo vicino V e gli chiede l'informazione, ovvero fa una cosiddetta operazione di pool. Ovviamente, dato che stiamo scegliendo uniformemente a caso un vicino, quindi stiamo introducendo una componente aleatoria, questo protocollo è un protocollo di tipo probabilistico. Allora, questo qui è più o meno lo schema del protocollo e funziona in questa maniera. Per ogni tempo T, perciò noi stiamo assumendo che il nostro sistema, la nostra rete, lavora in tempi discreti e in maniera sincrona. Ogni nodo non informato, quindi prendo un nodo U non informato, cosa fa? Sceglie un suo vicino uniformemente a caso e se è fortunato, ovvero se V è già informato, si fa inviare l'informazione e lui si ritiene informato. Passa informato. Come possiamo vedere, il protocollo termina localmente, cioè ogni nodo sa quando termina, ovvero quando passa allo stato informato, però non può terminare in maniera globale. Ovvero ogni nodo non sa quando tutti gli altri nodi vengono informati. Quello che vogliamo sapere è quanto è efficiente questo protocollo, ovvero quanto tempo ci mette in media, almeno in media, affinché tutti quanti i nodi della rete verranno informati. E' possibile dimostrare che il tempo di questo protocollo, ovvero gli istanti temporali necessari affinché tutti quanti i nodi verranno informati, è all'incirca logaritmico nel numero dei nodi. In realtà è possibile dimostrarlo anche con alta probabilità, però noi lo dimostreremo solamente in media, ovvero faremo un'analisi di tipo min field. Allora, iniziamo la dimostrazione di questa affermazione, ovvero che il tempo medio del mio protocollo, affinché termini il suo compito, è logaritmico nel numero dei nodi. Allora, questa dimostrazione è divisa in tre fasi. E ora le spiego, do uno sketch di cosa faremo. Allora, indichiamo con i di zero l'insieme dei nodi informati al tempo zero, ovvero l'unico nodo, in questo caso la sorgente. E indichiamo con i di t i nodi che iniziano la fase t come informati, ovvero tutti i nodi informati entro il tempo t. Nella fase 1 vedremo che il numero di nodi informati crescerà in maniera esponenziale fino ad arrivare all'incirca la metà dei nodi. Nella fase 2 vedremo che i nodi sopravvissuti, ovvero quelli non informati, decresceranno in maniera esponenziale. Quindi indichiamo con v meno i di t che è l'insieme dei nodi informati, decrescerà fino a qualcosa di molto piccolo, quasi una costante. Quindi log n. Con velocità esponenziale. E infine, nella fase 3, vedremo che il numero di nodi informati passerà da log n a zero nodi informati in un solo istante temporale con alta probabilità. Per cominciare, fissiamo un generico tempo t e diciamo che il numero di nodi informati è una certa costante m di t, che ovviamente deve essere minore o uguale di n mezzi, perché, come abbiamo descritto, il numero di nodi informati nella fase 1 è al più n mezzi. Perché alla fine della fase 1 sforerà la metà dei nodi. Io voglio sapere quant'è il numero di nodi informati al tempo successivo, in funzione di quelli del tempo precedente. Facciamo alcune osservazioni. Indichiamo con la variabile aleatoria binaria y di v di t, che vale 1. No. Se v fa un pool, ovvero fa una richiesta di pool, ha un nodo u informato e zero altrimenti. Questo qua per ogni nodo non informato, ovvero che non appartiene ai d t. Allora, la probabilità che y di v fra tutti i nodi del grafo ne peschi 1, esattamente 1 informato, è esattamente il numero di nodi informati fratto tutto il numero di nodi, perché ricordiamo che stiamo in una click. Quindi io posso pescare qualsiasi nodo. In realtà è n-1 perché non può pescare se stesso, però quel meno 1 è asintoticamente indifferente, è irrilevante, quindi poniamo semplicemente n. Visto che la cardinalità di i di t è fissata, abbiamo che è esattamente m di t su n. Poi sappiamo che la media di una variabile aleatoria binaria è pari esattamente alla probabilità che valga 1. Infatti, questa qui è pari a 0 per la probabilità che tale variabile aleatoria valga 0, più 1 per la probabilità che essa valga 1. Questo si annulla, questo è 1, perciò rimane solamente lui, ovvero m di t su n. Adesso indichiamo con i di t più 1 l'insieme di tutti i nodi informati al tempo t più 1. Esso sarà pari all'insieme di tutti i nodi informati entro il tempo t, unito a un certo i star, che sarebbe l'insieme dei nuovi nodi informati al tempo t. Perciò, dato che questi due insiemi sono disgiunti, ovvero abbiamo che i di t intersecato i star è uguale all'insieme vuoto, possiamo dire che la cardinalità di i di t più 1 è uguale alla cardinalità di i di t più la cardinalità di i star. Dove però sappiamo che la cardinalità di i di t è un certo valore fissato m di t. Perciò, quello che a noi interessa, per calcolare la media di numero di nodi in questo insieme, è calcolare quanto vale lui in media, quanti sono i nuovi nodi informati al tempo t. Allora, questo è abbastanza banale verificare che il numero di nodi informati al tempo t è esattamente la somma di queste variabili binarie, per ogni v non informato al tempo t, che non risulta informato all'inizio del tempo t. Perciò, per linearità della variabile elettore binaria, delle variabili della media, so che il numero di nuovi nodi informati, sapendo che al tempo t ce ne sono m di t, è pari alla somma per ogni v non informato di questa variabile elettore, sapendo ovviamente che al tempo t ci sono m di t non informati. Perciò, questo qui vale le somme per v che va per ogni v non informato, entro il tempo t, di questo valore qua, che abbiamo calcolato in precedenza, m di t fratto n. E questo è uguale al numero dei nodi informati, ovvero v meno i di t, la cardinalità di v meno i di t, per m di t fratto n, ovvero n meno m di t per m di t fratto n. Io so però che m di t nella prima fase è minore o uguale di n mezzi, perciò tutto questo è almeno n mezzi, cioè se pongo m di t pari a n mezzi, otterrò n meno n mezzi e n mezzi. Perciò tutto questo è almeno n mezzi per m di t fratto n, questo si semplificano e mi rimane m di t fratto 2. ovvero, mediamente, ricapitolando, mediamente, il numero di nuovi nodi informati al tempo t, sapendo che entro il tempo t ce n'erano esattamente m di t, è almeno m di t mezzi. A questo punto, avendo calcolato la media dei nuovi nodi informati, posso calcolare la media di tutti i nodi informati che risultano essere informati al tempo t più 1, ovvero, la media di tutti i nodi informati che risultano essere informati al tempo t più 1, sapendo che al tempo precedente ne risultavano essere informati m di t, sostituisco questa formula con questa qui, e ottengo la media di questo valore qui. Sempre assumendo che al tempo t ce n'erano informati m di t. Ora, io ho la media della somma di una variabile aleatoria più una costante e per linearità della media posso portare fuori la costante ed esce fuori questa cosa qui più la media di i star sapendo questo. Ora, io so che lui è esattamente m di t per definizione, mentre lui, me lo sono calcolato prima, è almeno m di t mezzi. Quindi tutta questa roba qui è almeno m di t più m di t mezzi, ovvero almeno 3 mezzi m di t. Quindi, ricapitolando, io so che il numero di nodi informati al tempo t più 1 in media è almeno 3 mezzi il numero di nodi informati al tempo t. Ricorsivamente, a sua volta, lui è almeno 3 mezzi alla seconda il numero di nodi informati al tempo t meno 1. E così via. Perciò ottengo che il numero di nodi informati al tempo t più 1 è all'incirca 3 mezzi alla t più 1. Ora, io voglio sapere so che tutta questa cosa qui è minore di un certo di n mezzi. Quindi io voglio trovare un tempo tau tale che seguendo questo tipo di crescita al tempo tau io sforo il limite degli n mezzi, ovvero un certo tempo t tale che il numero di nodi informati è almeno n mezzi. Facendo un po' di calcoli li faccio in verde io voglio trovare il minimo tau tale che 3 mezzi alla tau è almeno n mezzi. ovvero tau è qualcosa all'incirca di log di 3 mezzi di n mezzi ovvero ordine di log n. In effetti si può vedere che la crescita è esponenziale perché i nodi informati al tempo t più 1 sono un qualcosa del tipo 1 più alfa cioè 1 più una costante importante la costante volte maggiori rispetto a quella al tempo precedente quindi se moltiplico per qualcosa che è sempre maggiore di 1 avrà una crescita di tipo esponenziale e quindi in tempo logaritmico riesco a raggiungere almeno la metà dei nodi. nella fase 2 voglio dimostrare l'opposto voglio dimostrare che avendo almeno la metà dei nodi informati ho che i nodi non informati degrescono esponenzialmente ovvero indichiamo con z di t il numero di nodi non informati al tempo t ovvero n meno m di t dove m di t sappiamo essere sempre il numero di nodi informati dato che siamo nella fase 2 sappiamo che il numero di nodi informati è almeno n mezzi perciò z di t è al più n mezzi ora indichiamo con x di t v la variabile aleatoria binaria opposta a quella precedente ovvero 1 se v fa pull nei non informati e 0 altrimenti ovvero vale 1 se v è sfortunato perciò la probabilità che v di t valga 1 ovvero che v faccia pull a un nodo non informato e quindi sopravviva alla fase t è esattamente il numero di casi favorevoli ovvero sfavorevoli in questo caso perché parliamo di sfortuna fratto i casi possibili perché stiamo in una click ovvero z di t fratto n inoltre abbiamo detto che z di t è al più n mezzi e quindi questa cosa è al più un mezzo ovvero la probabilità che un nodo non informato al tempo t faccia pull su un altro nodo non informato al tempo t e quindi sopravviva a questa fase passando alla fase t più 1 è al più un mezzo e sappiamo che la media di una variabile aleatoria binaria sapendo sempre che ci sono almeno n mezzi di informati è esattamente pari alla sua probabilità ovvero almeno al più un mezzo indichiamo ora con z di t più 1 la variabile aleatoria che è la somma di tutti quanti i nodi sopravvissuti alla fase t perciò la sua media per linearità è esattamente la somma di ogni nodo che non era informato alla fase t per della media di questa variabile qui x di t di v sempre sapendo che ci sono almeno n mezzi di nodi informati ovvero che ci sono z di t nodi non informati questo qui lo scrivo qui sopra è uguale alle somme per ogni nodo che non era informato alla fase t è al più le somme di di un mezzo questo perché perché ce l'abbiamo in questa disuguaglianza qua semplicemente siamo andati a sostituire questa media a questa che è la stessa cosa e questo qui è uguale alla dimensione di v di t v meno i di t per un mezzo però noi sappiamo che questo per definizione è la dimensione di z di t e quindi avremo che il numero che z di t in media cioè z di t più 1 ovvero i nodi sopravvissuti alla fase t che arriveranno alla fase t più 1 saranno al più un mezzo dei nodi sopravvissuti alla fase precedente perciò noi abbiamo visto che abbiamo il nostro grafo g e abbiamo un tot di nodi informati e un tot di nodi non informati abbiamo dimostrato che in media al tempo t più 1 i nodi non informati al più saranno la metà di quelli al tempo precedente e così via lui verrà dimezzato si dimezzerà tantissime volte ovvero avremo una crescita una decrescita esponenziale dei nodi non informati e quindi in tempo logaritmico avremo che i nodi non informati passeranno da essere qualcosa che è minore di n mezzi fino a qualcosa di molto piccolo quasi una costante ovvero supponiamo log n ora finiamo con la fase 3 nella fase 3 abbiamo che i nodi sopravvissuti sono all'ir circa log n quindi qualche costante c per log n e voglio dimostrare che con alta probabilità in un solo round in un solo step del protocollo essi passeranno a 0 cioè terminerà il suo task il protocollo ancora una volta come prima indichiamo la variabile aleatoria binaria 1 0 per ogni nodo non informato che vale 1 se lui è sfortunato e fa pull su un altro nodo non informato o 0 se è fortunato e quindi diventa informato perciò la probabilità che questa variabile valga 1 è pari a casi favorevoli su casi possibili i casi favorevoli in questo caso sono che lui pesca un nodo non informato perciò che sta qui dentro casi possibili sono tutti i nodi del grafo n questo sempre per definizione è z di t noi lo abbiamo chiamato z di t ovvero il numero di nodi sopravvissuti che risultano sopravvissuti alla fase t nell'inizio della fase t e sappiamo che lui è in circa c log n quindi minore uguale di una certa costante c sufficientemente grande per log n sappiamo da prima che la media di una variabile aleatoria binaria è pari alla sua probabilità che valga 1 perciò tutto questo è uguale minore uguale di questa roba qui ovvero c per log n fratto n ora io voglio sapere quanti fra i z t nodi non informati alla fase t sopravvivono e passeranno all'insieme z t più 1 dei nodi non informati al tempo t più 1 ovvero z di t più 1 è uguale alla somma di tutte queste variabili aleatorie binarie ovvero noi siamo nel grafo t nel grafo g e abbiamo che questo è l'insieme di sopravvissuti al tempo t all'inizio del tempo t che fanno tutti questi nodi iniziano a fare pull o qui dentro tre nodi non informati oppure qui dentro a un certo punto avremo che alcuni nodi sopravviveranno ed altri invece saranno informati più precisamente loro due che hanno fatto pull fra quelli informati rimarranno informati lui poverino che ha fatto pull in un suo compagno non informato al tempo z al tempo t più 1 risulteranno non informato e quindi farà parte dell'insieme z di t più 1 perciò abbiamo che la media di z di t più 1 sapendo che c'erano z di t nodi non informati per linearità della media è la somma di tutti questi nodi qui per tutti questi nodi qui della loro media però io l'ho già calcolata questa media qui l'ho già calcolata e so che ha il più c log n e quindi tutto questo è minore o uguale di c log n quindi le somme per ogni nodo che risultava non informato all'inizio del tempo t per c log n diviso n so che questo è la carnalità di questo insieme qui c per log n fatto n e so anche che lui fissato è z di t quindi tutto questo è uguale a z di t per c log n fratto n so anche dall'inizio che z di t è meno o uguale di un certo c log n e quindi tutto questo è c alla seconda per log quadro n fratto n allora da prima abbiamo visto che la media dei nodi che sopravvivono a uno step nella terza fase è al più questo numero qua c quadro per log quadro n fratto n ora io voglio sapere con che probabilità al tempo t più 1 sopravvive almeno un nodo sapendo che ce n'erano z di t prima qui posso applicare il cosiddetto mark of bound che dice questa cosa qui io ho una variabile aleatoria x positiva che assume valori positivi allora la probabilità che x sia maggiore di una certa costante a è meno o uguale della sua media fratto a in questo caso ho che lui è x e lui è a quindi diviso 1 fa sempre 1 quindi tutto questo è al più lui fratto 1 fratto 1 lo posso togliere rimane lui ovvero al più all'incirca c quadro low quadro n fratto n ma io voglio sapere che qual è la probabilità che in un solo step non esistano nodi informati ovvero qual è la probabilità che c'è meno di un nodo informato al tempo t più 1 però meno di un nodo informato significa 0 nodi informati non possono esserci meno di 0 nodi informati perciò la probabilità che i nodi non informati siano 0 è uguale a 1 meno il complementare ovvero lui 1 meno probabilità che lui sia il più 1 ovvero 1 meno al più cioè almeno 1 meno c quadro low quadro n fratto n questo qui tende a 0 molto velocemente all'incirca come 1 su n al crescere di n e quindi avremmo ottenuto che con alta probabilità il numero di il numero di nodi sopravvissuti è 0 in un solo step nella fase 3 ricapitolando nella fase 1 noi abbiamo qui il numero di nodi informati che chiamiamo m di t e qui il tempo abbiamo che in tempo logarittmico ovvero con velocità esponenziale loro crescono fino all'incirca n mezzi nella fase 2 abbiamo analizzato i nodi non informati i sopravvissuti che all'inizio erano al più n mezzi abbiamo visto che con velocità esponenziale loro decrescono fino all'incirca qualcosa che è dell'ordine di log n infine nella fase 3 abbiamo visto che all'inizio sono circa c log n al più c log n poi abbiamo visto che con alta probabilità dopo se questo è il tempo t questo è il tempo t più 1 dopo un clock con alta probabilità loro passano a 0 cioè arrivano qui e al tempo successivo diventano 0 nodi non informati tutte queste fasi accadono in tempo logaritmico quindi nella fase 1 ho log n step nella fase 2 ho log n step nella fase 3 abbiamo visto che in 1 o al più 2 3 un numero costante di step finiscono i nodi non informati e quindi il tempo in media del mio protocollo è qualcosa dell'ordine di log n dove n è il numero di nodi è il numero di nodi che è il numero di nodi